ciao ragazzi ragazzi c'è mi scivola dentro vedi come faccio a chiudere si è rotto no in una tasca la solita quella del metro dai uno dei due è uguale tanto questo qua ti ho preso con una mano prendi pure il cavetto portatelo lì a filmare è possibile ecco qua ragazzi ragazzi guardate siluro otto piccolino ma sempre un siluro dai bisogna ancora rilascio adesso guardate 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 Grazie a tutti.